Salve a tutti, oggi streaming con Paper Mario Sticker Star per 3DS Inizia alle 14, so che è un po' presto ma io alle 17 30 ho un impegno Quindi per le 17 è meglio che chiudo lo streaming Quindi se volete le solite 3 ore di streaming è meglio che inizio un'ora prima Quindi alle 14 non ci sarà nessun pre-show, al massimo sarò lì prima per provare le impostazioni audio eccetera eccetera Ciao ci vediamo, mi spiace non preoccupatevi sarà dopo su Youtube se lo mancate Ciao ciao